Paradosso degli uffici giudiziari italiani. Se da un lato c'è una riscontrata carenza di personale amministrativo, dall'altro lato c'è una flotta composta da 2650 persone formate per ricoprire determinati ruoli, che dal 1 maggio 2015 non avrà più collocazione effettiva. La problematica riguarda in tutto il paese i cosiddetti precari della giustizia, che si sono uniti sotto la sigla UPG. Nella nostra regione sono 700 i lavoratori precari dislocati nei vari distretti e nei vari tribunali calabresi. Questi uomini e queste donne, dopo 5 anni di lavoro, pretendono a gran voce stabilizzazione. Siamo entrati con i famosi tirocini formativi, con l'accordo tra regione, provincia e uffici giudiziari. Dopo aver fatto un tirocino di 6 mesi, siamo passati ministeriali. Quindi noi adesso siamo in tutto e per tutto, facciamo parte del Ministero della Giustizia. Dunque al Governo nazionale chiediamo un contratto, perché dopo 5 anni e forse anche più, noi adesso siamo stanchi di stare, come diciamo tutti noi, in questo limbo. Perché noi vogliamo sapere se verrà fatto un contratto o meno. E il Ministero deve effettivamente trovare una soluzione, perché dopo 5 anni non ci può buttare fuori dalla nostra preparazione che abbiamo avuto all'interno degli uffici giudiziari. Cioè da 5 anni noi abbiamo preso 2300 euro annui. Cioè da 5 anni non ci può buttare fuori dalla nostra preparazione che abbiamo avuto all'interno degli uffici giudiziari.